Noi stiamo denunciando da diverso tempo questa problematica riguardante i trasporti sanitari, però non abbiamo avuto fino ad oggi nessuna risposta concreta. Noi ci ritroviamo in mezzo a una questione che peraltro ci interessa marginalmente, nel senso che ormai da settimane si parla della questione dei trasporti sanitari. Noi non siamo né indagati né quantomeno accusati di qualcosa che non ci riguarda e tant'è che non vogliamo entrare nel merito di queste cose. Però in maniera indiretta ne paghiamo le conseguenze, perché la nostra associazione anticipa tutte le spese per i servizi che eroghiamo a favore dell'azienda sanitaria, quindi dall'acquisto dei mezzi, dalla manutenzione, quelle che sono le spese correnti che comunque anche se siamo un'associazione di volontariato dobbiamo sostenere, né più né meno come se fossimo un'azienda. Questo però mette a dura prova la nostra sopravvivenza, perché non possiamo continuare a dare dei servizi continuando ad anticipare le spese, visto che abbiamo un considerevole arretrato. Di che importi stiamo parlando? L'importo che dobbiamo avere ad oggi si aggira sui 70.000 euro, che per un'associazione di volontariato piccola come la nostra fa la differenza. Noi stiamo chiedendo appunto di riavere i nostri soldi che abbiamo utilizzato per mandare avanti il servizio.